Grazie a tutti davvero, essere qua è come essere lì, mi sento una piccola goccia nel mare come uno di voi, grazie davvero. Ti aspettano, grazie Luca, credo che ti aspettino, vai pure che tra 30 secondi ti diamo la linea, tu dici, è in dubbio. Ma approfitto di questa piccola attesa, stiamo per goderci il momento di Luca, per salutare tutte le persone, in particolare una che ci onora della sua presenza perché ci dà l'idea che anche suo fratello sia qui con noi, una grande gloria dell'Emilia conosciuta e apprezzata nel mondo, il maestro Pavarotti. Salutiamo la sorella Gabriella che è qui con noi, anche lei ha voluto essere presente pagando il biglietto ed è in tribuna. Grazie Gabriella, un abbraccio e grazie per aver portato il pensiero del maestro Pavarotti in questa nostra serata. Il concerto per l'Emilia continua con Luca Carboni! La maia e le bologna, sette giorni su sette, pochi passaggi, molti britti, molti vetri sbarcati, Un Dio cattivo e nervoso, preso andando la dottrina, come un abitizio e un fischiato, tutti i perché, di Raffane e baciare, Questa è la palla che ci può salvare, a saldarci la mia legge, sette canzoni, che uscivano dall'anno di sì, Tu sei andato a cercare l'estrazione, che buffa la luce, che trappola, la treda ti ama. Non potevano prendere vinci, non ho capito, che nasce qualcosa di strano. E' come strano incontrarti, si ti aspetta, la spazzata del tuo parlare. Si via lo sai, lo sai che buca sui, che buca un cuore. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.